Annelli vandalizzati a Lido di Fano identificato uno degli autori grazie alle telecamere di video sorveglianza. Per i sindaco seri questi atti non possono essere tollerati, servono più forze dell'ordine e politiche sociali mirate. Più capiente e accessibile a tutti, illustrato alla città l'intervento di riqualificazione del bastione Sangallo a Fano, l'avvio dei lavori entro marzo 2024. Amministrative 2024 all'idone incontro pubblico del Movimento 5 Stelle, Vene Comune, fanno ribella Verdi e PSI. A settembre il dialogo con il PD e le liste civiche per vincere le prossime elezioni. 24 serate di spettacolo e 8 titoli da ottobre 2023 ad aprile 2024, presentata la nuova stagione di prosa del Teatro della Fortuna. Due mani che escono dalla terra per lanciare il messaggio di prendersi cura dell'ambiente inaugurata nel parco della casetta Scout, la struttura realizzata dal maestro carrista Mauro Chiappa e dal presidente dell'associazione Scout Park, Tunucci, Francesco Bertulli. A Fano al via le iniziative per la 64esima festa del mare. Si parte domani con lo spettacolo Storie d'amore e di mare, con l'attore e regista Carlo Simoni e il coro polifonico malattestiano. Da giovedì chiuse alcune aree di sosta a pagamento. Partono domani le prevendite per in giro per Fano, la passeggiata degustativa che torna il 10 agosto nelle vie del centro storico di Fano. Prevista una riduzione speciale per i possessori della VisitCard. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano i pannelli artistici vandalizzati nel sottopasso del Lido di Fano. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, la polizia locale ha identificato un ragazzo che ora dovrà rispondere del reato di danneggiamento del patrimonio pubblico. Più controlli e repressione, ma anche interventi di ordine sociale costituiscono la ricetta del sindaco Seri per combattere gli episodi con i quali in questa estate alcuni giovani fanesi si abbandonano a risse e a episodi di vandalismo. Il servizio di apertura è di Massimo Foghetti. Si sono levate diverse segnalazioni d'allarme da più parti del territorio fanese per quanto riguarda problemi di ordine pubblico. Non si tratta di reati clatanti, di grossi crimini che pregiudicano la sicurezza delle persone, ma di un fenomeno che coinvolgendo giovani e adolescenti suscita non poca preoccupazione. Spesso figli di buone famiglie che all'oscuro dei propri genitori si rendono protagonisti di comportamenti che oltrepassano le norme del vivere civile. Vandalismi, piccoli furti, risse, bullismo, sbornie, situazioni da sballo. In questa estate particolarmente calda, molti giovani e adolescenti fanesi girano di notte in gruppo devastando arredi pubblici, prendendosela con i più deboli, confrontandosi a suon di botte tra loro e in fondo, pur con questo comportamento trasgressivo, intendono lanciare un messaggio. Ci siamo anche noi, non trascurateci. Anche noi vogliamo dire la nostra, solo che la dicono in maniera sbagliata. E allora non manca la repressione. Quanto sta accadendo non viene trascurato dal sindaco Massimo Seri che ci ha espresso la sua reazione. Ci sono degli episodi, delle situazioni che vanno monitorate, sulle che non vanno sottovalutate, però nell'insieme è una città dove si vive bene, questo lo dobbiamo dire rispetto anche al contesto generale. Effettivamente ci sono delle situazioni critiche, chiamiamole così. Sono stati anche degli atti vandalici recentemente, l'ultimo è quello sotto il sottopasso di Viale Cairoli. Devo dire che lì, al di là anche di qualche ilarità, di qualche informazione errata, le telecamere funzionavano, come funziona tutto il sistema di controllo della nostra città. Hanno fatto il loro dovere, la Polizia Municipale ha individuato il responsabile, sulla quale daremo delle comunicazioni nelle prossime ore e quindi non passerà inosservato e non se la caverà chi si è macchiato di quell'atto grave. Che sono cretinate, perché chiamiamole per nome e cognome, sono vere stupidaggini che non possono essere tollerate. Quindi c'è una situazione complessiva che va monitorata, da una parte attraverso il controllo e anche l'intervento di repressione, come in questo caso, ma dall'altra devono essere accompagnati anche con delle politiche sociali di coinvolgimento, perché le due cose devono camminare insieme, altrimenti non si risolve un problema. Magari si sposta da una parte all'altra della città, si possono generare altri problemi. Quindi sono due elementi che camminano di pari passi sulla quale l'amministrazione sta lavorando. C'è anche un lavoro insieme alle forze dell'ordine che ringrazio, poi c'è anche la necessità di avere qualche rinforzo anche tra le forze dell'ordine, perché, e questo lo voglio denunciare, col fatto che Fano non è città-capoluogo, paga anche questo limite. Troppo spesso nelle città-capoluogo, pensiamo città che hanno la metà dei nostri abitanti, hanno il doppio del personale a disposizione. Allora anche questo è una situazione che deve essere modificata. Fano è una città, non è città-capoluogo, ma è una città nel contesto marchigiano grande, una città di mare, che ha una serie di esigenze e non può essere sottovalutata. E l'ambulanza atterrata a Marotta di Mondolfo questa mattina ha perso correre un ciclista che ha accusato un malore e si è accasciato a terra. È successo intorno alle 10.30 in via 28 Settembre. L'uomo, che al momento del fatto era senza documenti, è stato trasportato al torrette di Ancona. Abbattimento delle barriere architettoniche, ampliamento della capienza e una terza uscita di sicurezza. Sono solo alcuni dei lavori che verranno eseguiti il prossimo anno al Bastione Sangallo a Fano, una struttura che vuole diventare sempre più un luogo centrale della città, accessibile a tutti. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Come e quale sarà il futuro del Bastione Sangallo? Con questi interrogativi ieri sera l'amministrazione comunale di Fano ha incontrato i cittadini ed illustrato i prossimi interventi ai progetti di riqualificazione dell'intera struttura per far sì che diventi frequentata da chiunque e con un occhio di riguardo sulla capienza che dalle attuali 150 persone diventerebbero circa 300. Con i tecnici del Comune di Fano abbiamo lavorato un progetto che vada proprio a lavorare sia per migliorare la capienza del bene ma allo stesso tempo anche per renderlo più accessibile a tutti in tutte le sue piazze perché come vedete oggi sono visitate, sono possibili da visitare singolarmente senza un accesso interattivo e soprattutto funzionale su tutti i piani. Cosa che invece con questo progetto sicuramente avverrà perché verranno realizzate una terza uscita di sicurezza appunto con una nuova componente esterna che darà accesso sia alla parte alta che alla parte bassa. Verranno messi a disposizione, verrà realizzato un nuovo bagno per disabili proprio in questo piano, cosa che oggi non c'è, disabili e anche non e soprattutto ci saranno anche dei montacarichi nella parte superiore che metteranno a disposizione tutto il bene in tutte le sue parti anche da persone che in questo momento non riescono ad accederci. Questo è un progetto con il quale ci siamo già candidati ad un bando regionale che finanzierà proprio degli interventi sulla messa in sicurezza della cinta muraria per cui attendiamo l'esito e incrociamo le dita. L'ultimo intervento eseguito al Bastione Sangallo, ha detto Brunori, risale dal 2000 al 2003 per mano del professor Copini. Negli ultimi anni sono state diverse le piccole migliorie e gli interventi da parte del comune come la nuova rampa per disabili, una staccionata e la nuova pavimentazione insieme al nuovo impianto di illuminazione inaugurato alcune settimane fa. All'incontro dal titolo I luoghi della cultura erano presenti anche l'assessore Cora Fattori e l'architetto Pamela Lisotta che ha illustrato la nuova scala via di fuga in stile torre d'assalto e una nuova passerella per raggiungere in sicurezza la parte alta del bastione. Un progetto che abbiamo voluto fortemente e si inserisce nel filone dei luoghi della cultura perché? Perché vuole valorizzare il bastione a pieno. Il bastione Sangallo ha grosse potenzialità, può ospitare lavoratori, presentazioni, conferenze e può fare veramente tanto. Già ad oggi è una struttura che è diventata preziosa per la città, con questo progetto di riqualificazione può diventarlo ancora di più perché si apre una capienza maggiore che ne permette usi migliori per la città ma soprattutto diventa anche più accessibile per le persone con diverse abilità. Quindi un lavoro che la città desiderava da tempo. Sarà invece un teatro del tutto rinnovato grazie all'efficientamento energetico i cui lavori sono in pieno svolgimento. Quello che accoglierà il pubblico nel prossimo autunno quando inizierà una stagione di prosa tra le migliori di tutta la regione Marche. Parola del direttore artistico Gilberto Santini che insieme alla presidente della fondazione Teatro della Fortuna Katia Amati ha presentato il programma. Katia Amati per il prossimo autunno un teatro rinnovato e un programma rinnovato con alcune novità. I lavori stanno procedendo, l'abbiamo già detto in conferenza stampa, stagione di prosa, la novità da 7 a 8 spettacoli, cominciamo ad ottobre e finiamo a maggio. Abbiamo tenuto conto, e poi l'avrà già detto Gilberto Santini, proprio anche dei desiderati del pubblico che ogni sera viene a teatro. Abbiamo riproposto un pacchetto speciale anche per gli abbonamenti per i giovani e per le scuole, in maniera di ritornare anche in quei settori ai livelli di pre-pandemia, perché immaginate anche subito dopo la pandemia le scuole hanno fatto fatica a essere presenti a teatro. Riproponiamo anche tutti i sabati pomeriggio delle tre giornate di spettacolo, l'incontro col pubblico, ultimo dell'anno con ormai uno spettacolo che è diventato apprezzato da tutti, piccoli e grandi, e ripristiniamo quel servizio che si chiama Porto Teatro Mamma e Papà, in maniera che i genitori sono nella sala grande a vedere gli spettacoli, i bambini possono giocare alla sala verdi, respirano l'aria del teatro e comunque abbiamo un pubblico da far crescere. Le scelte che avete fatto e soprattutto qual è il pubblico a cui vi riferite? Abbiamo cercato, come dici giustamente tu, un'avventura da molti colori, perché crediamo che una stagione debba poter proporre una città importante come Fano nelle sue tre serie di rappresentazione, davvero emozioni e possibilità diverse. Credo che in questi otto spettacoli, quindi uno in più, con tre recite in più rispetto all'anno scorso, ci siamo riusciti a dare una gamma ancora più vasta che va dai grandi classici, penso al lavoro di Gabriele Lavia su un curioso accidenti, un Goldoni piuttosto inedito, oppure il ritorno a un classico del Novecento come quello che Massimo Popolizio presenterà in uno sguardo dal ponte, appunto accanto alle scritture più classiche e anche ad opere di natura diversa che toccano, che riguardano il presente. Penso al dittico di chiusura in cui perfetta con Geppi Cucciari scritto da Mattia Torre o Amanti di Ivan Cotroneo con protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, così come l'inizio con L'uomo più crudele del mondo, Lino Guanciale e Francesco Montanari protagonisti, sappiano declinare al presente appunto la capacità del teatro di raccontare la nostra vita, i nostri difetti, quello che ci anima, come ad esempio l'amore, protagonista di tanti appuntamenti a partire dalle nostre anime di notte in cui una bravissima Lella Costa con Elia Shilton ci racconta una storia di amore in età matura, la danza con i cataclò, il grande divertimento intelligente, elegante, ma evolgare, quello di Tullio Solenghi e Massimo Lopez, il duo che nasce da un trio indimenticabile, insomma davvero tanti appuntamenti per poter far vivere un'avventura che possa essere davvero divertente, emozionante, carica di riflessione ai nostri spettatori che sono sicuramente tanti cittadini di Fano ma anche un territorio molto più vasto che guarda a questo teatro e alle sue bellezze come un contenitore di possibilità interessanti. AeroItalia e Ancone International Airport hanno annunciato i nuovi collegamenti diretti tra Ancone, Barcellona, Viene e Bucarest a partire dal prossimo 15 settembre e la grande novità Amsterdam a partire dal 28 ottobre. I voli saranno operati con aeromobili da 68 posti in grado di garantire trasferimenti rapidi e confortevoli. Sarà inoltre possibile scegliere tra una varietà di opzioni di viaggio in termini di orario, tariffa e classe di volo. Parliamo ora di politica perché ieri sera a Lido si è svolto un incontro dal titolo Per Fano noi ci siamo, in cui varie realtà politiche del territorio si sono confrontate su temi caldi e attuali. Ce ne parla Cristiana Guerra. Per Fano ha iniziato un'interlocuzione... È stato un vero e proprio dibattito sulla vita politica della città dal titolo Per Fano noi ci siamo. Svolto sei lunedì sera presso la tenso struttura dell'Ido alla presenza di numerosi cittadini, l'incontro è stato la prima tappa di una serie di appuntamenti organizzati in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024. Compagni di avventura, Movimento 5 Stelle, Bene Comune, Fano Ribella, Verdi e Socialisti. Diversi temi fondamentali trattati dopo un'introduzione iniziale. PRG, sanità, ambiente, attività produttive, infrastrutture, cultura e servizi sociali su cui i partiti si battono per un'esigenza della collettività. Questa sera iniziamo un percorso proprio per presentare il nostro lungo viaggio verso l'amministrativa del prossimo anno. Abbiamo messo insieme molte forze di questa città da Fano Ribella, che io rappresento, al Movimento 5 Stelle, Bene Comune, Partito Socialista e Europa Verde. Quindi oggi delineeremo, declinando diversi argomenti, quelle che è la nostra visione di città, quello che vogliamo portare per Fano e quello che vorremmo fare e vorremmo che venisse fatto e che magari non è stato ancora fatto. Quindi è un inizio di percorso che si svilupperà in questi mesi. Avremo il fiato per arrivare in fondo. Noi pensiamo che sia necessario che le forze del campo progressista si uniscano in un progetto comune per arrivare ad un'offerta politica che sia vincente in queste elezioni amministrative. È un progetto che parte da quelli che sono i principi e i valori del Movimento 5 Stelle. Quindi parliamo di beni comuni, parliamo quindi di rispetto dell'ambiente naturale, del paesaggio e dei beni culturali in tutte le scelte politiche che riguardano le opere pubbliche, l'urbanistica. Beni comuni vuol dire anche gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali che vengono forniti ai cittadini. E quindi rifiuti, sanità, scuola, servizi che devono essere resi ai cittadini nell'interesse esclusivo dei cittadini utenti e non degli azionisti delle società di gestione private. E proprio per questo abbiamo questa interlocuzione per arrivare a programmi, cose da fare per la città che siano condivisi. Il tema della sanità è un tema caro a tutti i cittadini, da sempre caro anche al Partito Socialista. Che cosa pensate? Come lo affronterete? Rivendichiamo per Fano, in questo silenzio generale, perché l'8 di agosto verrà approvato il piano sanitario regionale, un ruolo per il nostro ospedale decisamente importante, che è quello di un polo clinico di area medica che contemperi in una condizione di attività comune con la struttura di Pesaro, che deve essere una struttura di riferimento chirurgico, come lo è oggi. È evidente quindi che la nostra è una posizione di grande condivisione e di grande apertura. Non diciamo che è corretto o sbagliato il ritorno indietro rispetto all'ospedale Marche Nord. Valutiamo però che questa nuova impostazione politica che ha dato la regione Marche deve contemperare nei territori gli obiettivi di salute più importanti, soprattutto potenziando la medicina del territorio. Il tema sociale è un tema molto importante, stasera se ne parla. Come pensate di affrontarlo? Certo, è un tema importantissimo. Proprio domani finisce il reddito di cittadinanza e molte famiglie si troveranno in grande difficoltà. Qui a Fano sta per nascere, noi speriamo di no, un'azienda che dovrebbe occuparsi di servizi sociali. Secondo noi è un grave errore, è tutta la città, tutto il comune, tutta l'amministrazione che deve occuparsi di sociale. L'urbanistica in primis, direi, quando si fa un piano regolatore, si fa il piano regolatore urbanistico e sociale della città. Noi vorremmo una città che in tutti i suoi aspetti, le associazioni, l'amministrazione pubblica, possa occuparsi di sociale per prevenire il disagio e fare in modo che nessuno resti indietro. Nel parco della casetta Scout è stata inaugurata una scultura realizzata dal ministro carrista Mauro Chiappe e dal presidente dell'associazione Scout Park Tunucci, Francesco Bertulli, per lanciare un messaggio chiaro, quello di prendersi cura dell'ambiente. Sentiamo i dettagli nel servizio che è stato curato da Stefania Schiaroli. Spazio Enrico Mattei, oggi casetta Scout, grazie al lavoro quotidiano dell'associazione Scout Park Francesco Tunucci. Uno spazio sociale dato in utilizzo alle famiglie, gestito dall'associazione Scout e dalla GFI, genitori e figli per l'inclusione. Oggi un evento dedicato al prendersi cura, con l'inaugurazione di una scultura realizzata a tema e posizionata nel parco. Il messaggio è aver cura ed è le mani che hanno cura di quest'albero, di questa pianta. In generale con le mani noi usiamo la cura, carezziamo, lavoriamo, facciamo quello che facciamo con le mani. Quindi l'aver cura in questa situazione qui, con questa opera, vogliamo rappresentare la cura che l'uomo deve avere verso la terra, verso le nuove generazioni, verso tutti. Quest'opera è stata realizzata in polistirolo, la modellazione, infatti dalla scuola della Carnevalesca abbiamo portato questa tecnica. C'ha una struttura in ferro che poi è stata interrata e cementata e soprattutto c'ha una lavorazione di resina per proteggerla dalle intemperie, per renderla più solida. È una bella scultura, tra l'altro è anche ben posizionata perché è molto espressiva, perché due mani aperte che stanno a sostenere quasi, ad accogliere o appunto a prendersi cura di un albero, di un piccolo albero, è molto significativo e credo che sia un po' un messaggio perché come spesso viene detto ognuno dovrebbe fare un po' il possibile per prendersi cura dell'ambiente, del contesto, ma soprattutto anche degli altri, di coloro che soprattutto sono più fragili e se lo fa, visto che qui siamo in un contesto anche di scautismo, rende il nostro mondo un posto migliore. Ecco, quindi davvero grazie non solo per la scultura, per questa opera che oggi abbiamo inaugurato, ma anche per la gestione di questa isola felice che è poco lontana dalla città, dalle costruzioni, insomma dalla zona industriale, ma che è un punto appunto di inclusione sociale grazie alla gestione che di questo contesto fanno la GFI e anche l'associazione Scout Park Tonucci. È un progetto attivo dal 2003, nasce perché? Perché a suo tempo Guccioni Fabio ci disse appunto che c'era questa possibilità di far utilizzare, diciamo di utilizzare questo spazio, ma soprattutto di dare un servizio alla nostra città, perché a noi diciamo quello che interessava era mettere al centro la disabilità come servizio utile, cioè le persone riconosciute per il loro saper fare e riconosciuto nel loro essere. Per agevolare lo svolgimento della Festa del Mare in programma Fano dal 2 al 6 agosto, ASET SPA ha comunicato alcune variazioni in merito alle soste a pagamento in zona porto e alla raccolta differenziata dei rifiuti. Nello specifico, da giovedì verrà chiusa 24 ore su 24 la circolazione in Viale Adriatico a partire dall'incrocio con Via Lungomare Mediterraneo fino a Via Nazario Sauro, all'incrocio con Via Caduti del Mare. Questo renderà temporaneamente inutilizzabili i parcheggi a pagamento di Via Nazario Sauro e della zona porto di Viale Adriatico. Resteranno invece sempre disponibili le altre aree di sosta a pagamento situate lungo Viale Adriatico a partire dall'incrocio con Viale Ruggeri fino al piazzale di fronte al Mercato Ittico in Viale Battisti e nel piazzale antistante all'anfiteatro Rassat. Invariata la situazione a Lido. Resteranno sempre disponibili anche i parcheggi liberi con disco orario presenti nelle vie limitrofe, tra cui quelli in Viale Dante Alighieri e nei piazzali di Via del Perugino e di Via Barocci. Invece, per quanto riguarda i rifiuti, saranno garantiti servizi di raccolta porta a porta, ma verranno rimossi i cassonetti stradali presenti su Viale Adriatico di fronte ai condomini. E nell'ambito delle iniziative della Festa del Mare, domani sera al Porto di Fano, l'attore e regista Carlo Simoni e il coro polifonico Malatestiano proporranno lo spettacolo dal titolo Storie d'Amore e di Mare, tratto dal romanzo Maria Risorta di Giulio Grimaldi. La suggestiva scenografia del vecchio porto ospiterà lo spettacolo Storie d'Amore e di Mare. Quando si svolgerà l'iniziativa e chi saranno i protagonisti? L'iniziativa si svolgerà mercoledì 2 agosto, nella suggestiva situazione del Porto di Fano, perché in realtà si vuole rievocare un mondo, delle tradizioni, una dimensione, una cultura, una coralità del mondo marinaro. E quindi attraverso il romanzo Maria Risorta di Giulio Grimaldi, che è stato il poeta di questo mondo, abbiamo pensato di portare in scena, alle 19.15 del 2 agosto, portare in scena vicende di vita marinara e Storie d'Amore, come il titolo dice. Abbiamo molte collaborazioni. È il coro polifonico che in occasione della Festa del Mare ha voluto dare questo tocco di cultura, quella ricerca che c'è da parte anche dell'amministrazione di evocare i luoghi tipici della marineria. Attraverso la collaborazione della voce narrante dell'attore Carlo Simoni abbiamo ricostruito i quadri di vita marinara. Amori, feste, una serata in osteria, matrimoni e poi le sciagure, i pettegolezzi, la paura delle sciagure marine, tutti quegli aspetti di una vita marinara che erano un tempo tipiche e che magari si stanno un po' perdendo e che vengono appunto rievocate attraverso questo romanzo. Per la direzione del maestro Francesco Santini ci saranno le collaborazioni anche del coro Gaudium Vocis di Terre Roveresche, ci sarà ancora Morena Morico al flauto, Daniele Rossi alla Fisarmonica e ci sarà un intervento anche della banda Città di Fano. Carlo, a lei sarà affidata la narrazione di questo romanzo, dunque che cosa andrà a raccontare? Questa vita fino ad 800, prima del 900, diciamo insomma come ambientazione, proprio nel canale del porto di Fano, dove Giulio Grimaldi ha seguito l'andamento, i pensieri e proprio gli intrighi e la cosa importante è che in questa storia, che è molto bella, potrebbe essere anche un film. Importante l'amore, la storia d'amore. Io sono qui perché amo molto la mia città, io sono fanese, quindi con passione e amore mi sono dedicato, ma sono qui per dire che noi fanesi dobbiamo conoscere le radici della nostra storia e questo è molto importante, perché vediamo proprio come i nostri nonni e i nostri avi vivevano questa città. Questa città è molto faticosa, perché la vita di un pescatore è molto pesante, può essere bellissimo, questo mare è stupendo, però può essere anche terribile, con le tempeste, le onde, eccetera, e la paura verrà fuori da quello che io dirò, che leggerò delle donne che aspettano questi loro compagni, mariti, fratelli, padri, che tornino dalle grandi pescate burrascose. Grimaldi è poco conosciuto, se non a noi marchigiani, ma la cosa che mi ha colpito molto, è andato con la famiglia a Pisa, Marina di Pisa, a passare delle vacanze con moglie e figli, poi è andato a fare il mare, come possiamo fare il mare qui, il bagno al mare, ha avuto un malore ed è morto. Sono rimasto, dico come, ma poi ho guardato le date, è morto nel 1910, è andato in mare ed era proprio il 2 agosto, il giorno che noi faremo questo spettacolo, alle ore 19 e 15, quindi era un ragazzo, aveva 37 anni, dico tutto, quindi questo per me mi ha dato più voglia, più passione e più tenerezza. Vi ricordiamo che da venerdì a domenica per la festa del mare sono previste tante iniziative culturali, musica dal vivo, celebrazioni istituzionali, stand gastronomici con il pesce dell'Adriatico, lo spettacolo pirotecnico che domenica sera all'11.30 chiuderà la manifestazione. E c'è grande attesa anche per InGir per Fan, l'evento organizzato dalla Proloco di Fano che torna il 10 agosto nel centro storico, i biglietti per partecipare alla passeggiata degustativa potranno essere acquistati in diversi punti della città ed è prevista una riduzione speciale per i possessori della Visit Card. Cultura, musica e denogastronomia, Presidente, partono le prevendite per InGir per Fan? Sì, le prevendite partono praticamente domani e quindi siamo pronti per iniziare questa nuova edizione di InGir per Fan 2023, un'edizione ricca, chiaramente per chi magari non l'ha avuto modo di conoscere negli anni passati non è altro che un'esposizione di prodotti gastronomici che chiaramente si possono mangiare diviso in otto tappe, però tutto questo è diciamo arricchito da tutta la parte culturale legata alla nostra città con dei musei aperti, con altre strutture sempre di carattere culturale aperti e valorizzati anche magari soprattutto quest'anno da musica ed eventi particolari che abbiamo organizzato per quella giornata. Dove è possibile acquistare i biglietti? I biglietti si possono acquistare in diversi punti della città di Fano, principalmente in alcune zone di Fano, in particolar modo nella sede della Proloco, chiaramente, e nei punti IAT insieme agli alberghi consorziati. Sono previste delle scontistiche? Sì, infatti volevo appunto aggacciarmi ai punti IAT e agli alberghi consorziati in quanto quest'anno abbiamo aderito all'iniziativa che ci ha rivolto un po' il Comune di Fano per quello che riguarda la card, la visit card di Fano. Per tutti i possessori della card avranno un prezzo ridotto di 15 euro in quanto il biglietto intero ha un prezzo di 23. E questo però lo possono fare andando direttamente nei punti IAT e agli alberghi consorziati, mentre gli altri punti vendita non hanno la possibilità di vendere i biglietti ridotti. Quindi chi è possessore di questa card che sono prevalentemente turisti che hanno gratuitamente questa card possono andare in questi punti per poter usufruire di questa scontistica. E poi giovedì 10 dove e a che ora sarà il punto di ritrovo? La partenza, come tutti gli anni, è in piazza 20 Settembre dove ci sarà la partenza e l'arrivo chiaramente e l'orario sarà dalle 19-19.30. Comunque la partenza sarà 19.30. Io consiglio sempre di arrivare un pochettino prima perché poi si formano delle file soprattutto all'inizio abbastanza lunghe ma devo essere sincero molto snelle si smaltiscono molto velocemente anche perché i kit che verranno poi distribuiti in piazza perché con l'acquisto del biglietto si avrà solo il biglietto. Il kit deve essere ritirato in piazza all'orario appunto che ho detto 19.30 però è abbastanza veloce quindi sicuramente è un'attesa non stressante. Proseguono con grande successo gli incontri dei giovedì della confraternita organizzati dalla confraternita del suffragio in svolgimento nell'omonima chiesa in piazza Cleofilo a Fano. Il prossimo incontro di giovedì 3 agosto alle ore 21 vede di nuovo protagonista il dialetto fanese con un oratore di rilievo Monsignor Giovanni Tonucci che presenterà il volumetto scritto a quattro mani con Carlino Bertini priore della confraternita del suffragio i Miracul del Signorin edito nella collana dei quaderni del Consiglio regionale delle Marche interverrà la presentazione del libretto Dino Latini presidente del Consiglio regionale l'ingresso sarà libro e gratuito inoltre sarà possibile ascoltare l'iniziativa in diretta Facebook iscrivendosi alla pagina confraternita Santa Maria del suffragio Dalla 3 al 6 agosto Mario Mariani alza di nuovo il sipario naturale del Teatro Libero del Monte Nerone previsti concerti, esibizioni, letture, percorsi sensoriali e altre sorprese con personaggi e artisti che accompagneranno il celebre pianista l'insegna dell'improvvisazione creativa Mario Suo, pianforte e a coda accoglierà nuovamente lei e altri artisti alle pendici del Monte Nerone torna infatti il Teatro Libero quando si svolgerà? Svolgerà dal 3 al 6 agosto è un programma molto ricco che si aprirà il 3, quindi giovedì con Michele Giovagnoli che sarà anche in veste di cantanti, musicista con la sua hit Belli come il sole che ha totalizzato visto che oggi si guardano anche un po' i like facciamo qualcosa di questo ha più di 700.000 visualizzazioni poi nella stessa sera presenterò il mio settimo album per pianoforte solo che si chiama Spiritual Music e poi ci sarà il giorno dopo il 4 avremo invece una serata sciamanica con Loretta Stella la famosa sciamana ed erborista del Monte Nerone e il trio Ion che presenterà un lavoro su il De Garda von Bing sabato e domenica invece? Sabato e domenica sabato sarà la nostra maratona full night dalle 6 di pomeriggio alle 6 della mattina dopo con un duo con Michele Panzieri con un talk che faremo dedicato a Frank Zappa di cui quest'anno ricorrono i 30 dalla sua scomparsa ci sarà il Broz Trio che è una formazione ridotta di un gruppo che avevo il Broz Ensemble con Gigi Faggio e la tromba e Roberto Gazzani a diversi strumenti basso, fisarmonica, fiati eccetera eccetera poi ci sarà un duo che si chiama The Do che fanno danze folk insieme al pubblico e poi da mezzanotte mezzanotte e mezza ci sarà lo sleeping piano concert cioè il sottoscritto più altri pianisti se qualcuno vuole anzi posso invitarlo già appunto fin d'ora e per tutta la notte suoneremo quindi un concerto continuo mentre la gente dorme oppure contempla e per poi finire all'alba alle 5 e mezza con una yoga sonora con Elisa Ridolfi poi andiamo direttamente alla conclusione al pomeriggio dopo con Silio Bozzi un grande scrittore qualcuno l'avrà conosciuto con Giallonotte con Lucarelli come esperto della polizia scientifica e lui presenterà questo libro dall'emblematico titolo Filosofia del Suca e poi ci sarà il concerto finale con una performance poetica che si chiama Fanciulla Italia scritta con la Y L'ingresso sarà libero? L'ingresso sarà assolutamente libero il nostro è il Teatro Libero del Montenerone chiediamo un piccolo contributo che va ad aiutare gli artisti in cartellone quest'anno tra l'altro per il nostro decimo anniversario siamo molto felici di essere inseriti nel circuito Alte Marche e quindi insomma è una sorta di festival che si spalleggiano tra loro che si passano la staffetta tra un evento e l'altro quindi vi invito dal 3 al 6 agosto a venirci a trovare in questa splendida pineta siamo vicino a Cagli Secchiano per chi è di fuori regione siamo tra le Marche Luglia vi aspettiamo a corretti numerosi Tra poco trasmetteremo un approfondimento sulla festa del mare e a seguire uno speciale dedicato al decimo anniversario di un'azienda fanese grazie per aver seguito il nostro telegiornale Occhio alla Notizia e arrivederci a domani Grazie a tutti